eccoci sul sito della farmacia agricola bentornati qui ci divertiamo con la ps 22 32 forbici della bluebird azienda italiana storica ovviamente forbici di importazione ma di altissima qualità e di altissima fattura forbici che fanno molto parlare soprattutto per la presenza del famoso sensore antitaglio oltre per ormai essersi affermate per la robustezza la potenza e l'affidabilità nella confezione troviamo due batterie da 2,5 ampere cada una batterie che vi permettono di lavorare con una giornata intera con entrambe carica batterie compresa europea interessantissimo anche con la bluebird così come per la volpi abbiamo il caricabatterie sequenziale ovvero si possono collegare contemporaneamente due batterie il caricatore in automatico manderà in carica prima la prima e poi la seconda batteria così da non dover perdere tempo a sostituire le batterie dalla slot quindi non dobbiamo aspettare che una batteria si carichi per sostituirla dalla slot di ricarica qui il caricatore fa tutto da sé olio per minimo lubrificazione chiavi per lo smontaggio tutte e tre le chiavi che occorrono per lo smontaggio della lama e della lama sia mobile che per la lama fissa è interessantissime queste forbici perché lavorano in primis su due aperture quindi un'apertura da 30 mm 32 per la precisione e una seconda apertura da 25 mm e molto molto interessanti anche molto chiacchierate per la presenza del del sensore antitaglio sensore antitaglio che andiamo a vedere anche un pochettino come come si programma come lavora perché il sensore antitaglio si può anche disattivare o se vi dovessero arrivare la vi dovessero arrivare le forbici col sensore antitaglio disattivato vi spiegheremo in questo breve video come attivarle inseriamo le batterie la batteria pulsante di accensione con il secondo bip le forbici sono pronte sul display molto comodo abbiamo l'indicatore di carica della batteria il taglio effettuato dall'accensione e adesso non è visibile ma il simbolo e indica una fase di diagnosi con una serie di errori che possono riguardare malfunzionamenti quasi e così via tutti i codici di diagnosi poi li ritroverete sul sul manuale di istruzioni interessante questo questa 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 questione perché il codice di diagnosi permette di fare una rapido individuare in maniera rapida quello che è il difetto che magari ci si va in cui ci si va a imbattere in cui si interessantissimo apertura da 32 mm una lama particolarmente incurvata ma contro la ma che si vede all'occhio potente l'abbiamo utilizzata molto 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 potente la forbici non non esitano non vanno in sofferenza per ridurre la dimensione dell'apertura quindi la larghezza di lavoro premiamo il grilletto eccoci fermiamo al primo bip rilasciamo e le forbici si aprono a due centimetri e mezzo per ripristinare l'apertura precedente a tre centimetri e due premiamo il grilletto lasciamo al primo bip ed ecco che le forbici sono pronte per essere utilizzate a tre centimetri e mezzo con un'apertura così grossa il tempo di chiusura è lungo se dobbiamo fare tagli grossi serve questa posizione ma se dobbiamo fare tagli più piccoli quindi non dobbiamo perdere tutto questo tempo nella fase di di taglio possiamo tranquillamente lavorare ecco qui con le forbici a due centimetri e mezzo il taglio progressivo va veramente bene particolarità come dicevo all'inizio è il sensore antitaio il sensore antitaio che permette di mandare in blocco la lama nel caso in cui si dovesse toccare contemporaneamente il grilletto che è metallico con la parte delle forbici facendo questo lavoro ecco che le forbici vanno in errore il sensore antitaio può essere attivato o può essere disattivato basta toccare senza neanche premere basta semplicemente toccare il grilletto voi non lo fate ovviamente non lo fate perché può essere comunque pericoloso sono comunque organi taglienti quindi bisogna bisogna fare e agire con una certa attenzione per disattivare il sensore antitaio è molto semplice chiudiamo la lama la lasciamo un attimo chiusa una volta chiusa andiamo a spegnere le forbici premendo il pulsante di accensione disattiviamo il sensore premiamo contemporaneamente grilletto interruttore per fino al terzo bip secondo bip aspettiamo qualche secondo ecco qui questo è il terzo bip lasciamo il grilletto e lasciamo interruttore apriamo il grilletto ed ecco che adesso il sensore antitaglio lo vedete è stato disattivato sensuale può essere disattivato perché in particolari condizioni magari di umidità ambientale elevata o di un vigneto che lacrima abbondantemente può dare noia può dare blocchi allarmi continui quindi andiamo abbiamo le forbici che ci danno continuamente errore 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 a questo punto lo disattiviamo e lavoriamo ovviamente in sicurezza con il sensore antitaglio disattivato per riattivare il sensore antitaglio richiudiamo le forbici primo bip secondo bip doppio bip chiuse spegniamo le forbici premiamo contemporaneamente interruttore e grilletto fino al terzo bip primo secondo aspettiamo qualche secondo o forse mi è scappato forse mi è sfuggito l'interruttore ecco qui se non mi è sfuggito l'interruttore mi è scivolato dovrebbe funzionare ecco qui ecco che sta funzionando adesso toccando semplicemente il grilletto e contemporaneamente una parte della lama ecco che le forbici vanno in blocco questa è una funzione particolarmente interessante oltre a garantire un certo livello di sicurezza entro i limiti ovviamente della tecnologia ci permette di lavorare in maniera un pochettino più sicura interessantissima la doppia capacità di apertura due centimetri e mezzo e tre centimetri le forbici vanno che è una bellezza tagliano che è un capolavoro le faccio subito vedere il motore da 500 watt non esita minimamente potete tagliare tutto quello che volete veramente queste forbici vanno veramente veramente bene aspettiamo il secondo bip la spegniamo se avete bisogno di altre informazioni potete contattarci sul sito farmaciagricola.com potete acquistarlo online controllare offerte siamo a vostra completa disposizione grazie a tutti